Buon pomeriggio a tutti, io sono Maurizio Reina, presidente ad Interim in occasione di questo primo congresso dell'associazione Parti in causa, associazione radicale antispecista, vi saluto cordialmente, vi do il mio benvenuto, ringrazio Radio Radicale per la sua presenza, per consentirci la registrazione di questi lavori di questo primo congresso. I congressisti sono invitati a registrarsi, pronuncio fin d'ora che il termine per la registrazione dei congressisti viene stabilito da questa presidenza alle ore 16.30, quindi 16.30 è il termine ultimo. Dichiaro quindi aperti i lavori con conseguente insediamento della presidenza nella persona che vi parla. L'articolo 1 del regolamento del congresso che i congressisti hanno ricevuto e che si dà per letto, insomma è disponibile per tutti, prevede che il presidente del congresso e il presidente uscente dell'associazione, nel caso questi sia in possibilità per essere presenti o in caso di dimissioni anticipate, come appunto è avvenuto nel nostro caso la persona di Puglia, il segretario nomina al suo posto un presidente ad Interim, chi vi parla, entrano non oltre 7 giorni dalla data prevista del congresso. Prima dell'inizio dei lavori il presidente così nominato chiede la fiducia al congresso. Quindi io sono tenuto a fare questa votazione per la fiducia, se siete tutti pronti per alzatevi mano, mostrate il cartellino blu, chi è favorevole dà la fiducia a questa presidenza. Chi è contrario per controprova? Va bene, allora ho ricevuto la fiducia con nove voti e vi ringrazio. Do lettura della proposta di ordine dei lavori, a partire da ore 14, registrazione dei congressisti, 14.30, apertura dei lavori e insediamento della presidenza, lettura e approvazione dell'ordine dei lavori, relazione del segretario uscente Maria Giovanna Levetag, relazione del tesoriere uscente Gabriele Ceccarelli, approvazione del regolamento del congresso e approvazione delle relazioni con il contestuale bilancio. A seguire inizio del dibattito generale, inizio deposito delle mozioni generali, delle mozioni particolari, delle modifiche statutarie e degli emendamenti, saluto degli ospiti e come vi dicevo alle 16.30 termina la registrazione al congresso. Grosso modo indicativamente alle 17.30 termine per il deposito delle mozioni generali, delle mozioni particolari e delle modifiche statutarie, questo termine poi verrà meglio definito nel corso dei lavori, vediamo un attimo quale sarà l'andamento. A seguire termine per il deposito degli emendamenti, repliche del segretario e del tesoriere, dibattito e votazioni sui documenti depositati, candidature e rinnovo delle cariche statutarie, il termine dei lavori è previsto indicativamente per le ore 20. Prima di iniziare con la relazione del segretario uscente abbiamo ricevuto un messaggio di Gianluca Felicetti, presidente della LAV. Procedo quindi a dare lettura del messaggio di Gianluca Felicetti. Inizio compiendo un anno ed avendo fatto i primi passi, ora avete la possibilità di iniziare a marciare e le gambe grazie alla parte positiva di sfera radicale che rappresentate. Spero potete rafforzare con nuove energie per gli obiettivi che ci accomunano. Abbiamo tutti bisogno di fare di più e soprattutto meglio, con più forza, più preparazione e parte in causa per quel poco che l'ho conosciuto fino ad oggi può essere uno strumento importante e qualificato. Abbiamo tutti bisogno di esaltare ciò che ci unisce e che ci potrà unire su obiettivi sempre di più piuttosto che esaltare le differenze. Sapendo bene che le differenze possono esistere, che esistono, che spesso sono più di tattica che di strategia. Ognuno con la sua storia e il suo percorso deve essere il valore aggiunto per le tante battaglie che stiamo conducendo e le altre che abbiamo di fronte. L'elenco è lungo, tanto quanto quello dei secoli di dominio umano, nei confronti delle altre specie. Facciamo crollare assieme questo muro di sofferenza, morte e vergogna. Vi auguro buon congresso, firmato Gianluca Felicetti, presidente della Lava. Ringrazio in nome della quale presidente e a nome credo di tutto il congresso questo messaggio, Gianluca Felicetti per questo messaggio. Procediamo alla relazione del segretario uscente, Maria Giovanna Devedal. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, ringrazio gli amici, gli ospiti, le compagnie e i compagni radicali per essere venuti al primo congresso di Caffe in Causa al compimento del primo anno di vita dell'associazione. Ringrazio Iberi TV, la persona del direttore Gianni Colacione, ringrazio naturalmente Radio Radicale che ci consente di registrare questo evento. Allora io nella mia relazione cercherò, come il mio dovere, di sintetizzare quella che è stata l'attività dell'associazione in questo primo anno di vita e cercherò di fare anche alcune brevi considerazioni di carattere più generale su ciò che è accaduto in quest'anno, per quanto riguarda le battaglie animaliste e antispeciste e lo stato di salute in generale del movimento per i diritti animali italiano. Per ultimo mi soffermerò molto brevemente anche su alcune polemiche che sono nate in seno all'antispecismo italiano e che hanno parzialmente coinvolto anche parte in causa. Allora questo primo anno di vita è stato complessivamente molto impegnativo per l'associazione e per noi. La nascita dell'associazione non è stata facile, anche se devo dire che l'accoglienza da parte del congresso radicale all'evento della Costituente un anno fa è stata più che incoraggiante. Ciò nonostante devo segnalare purtroppo che il mancato riconoscimento dell'associazione da parte di radicali italiani ha sicuramente costituito uno svantaggio, un handicap soprattutto per quanto riguarda la nostra possibilità di farci conoscere all'interno del mondo radicale e di provare a contaminarlo. Tra l'altro il mancato riconoscimento devo dire è stato giustificato con motivazioni che non hanno alcun fondamento nello statuto di radicali italiani. In altre parole noi non siamo stati riconosciuti anche se fin dall'inizio avevamo tutte le carte in regola per ottenere il riconoscimento. Comunque su questo torneremo nel corso del congresso. Parte in causa è nata, e questo lo posso dire a posteriori, in un momento molto particolare dell'attivismo animalista e antispecista in Italia. Da un lato è stato sicuramente un momento di grande fermento e di piccoli o grandi ma comunque significativi passi in avanti, perlomeno dal punto di vista dell'attenzione mediatica, del movimento per i diritti animali. Pensiamo ad alcuni fatti che sono accaduti, pensiamo innanzitutto all'evento forse più significativo e più importante della liberazione di Beagle da Green Hill, alla messa sotto sequestro della struttura e ai processi che ne seguiranno, da cui potrebbero anche derivare sentenze molto importanti. Pensiamo all'azione di disobbedienza civile condotta da alcuni attivisti di Milano all'interno del dibattimento di farmacologia dell'Istituto dell'Università di Milano che ha portato alla liberazione di alcune cabbie e che ha portato anche sul tema della vivisezione un po' più al centro del dibattito pubblico. E pensiamo anche alla recente approvazione dell'articolo 13 della legge di delegazione europea sul recepimento in senso restrittivo della direttiva comunitaria in tema di vivisezione e della conseguente controffensiva, perlomeno sul piano mediatico, del fronte pro sperimentazione animale. Quindi è stato un anno di fermento e di avvenimenti significativi. Dall'altro lato bisogna anche dire che è stato un momento forse anche a seguito di questi eventi e anche forse a seguito di alcuni contributi teorici sull'artispecismo, un momento in cui si è innescato un dibattito interno, alcune polemiche anche vivaci che hanno in qualche modo provocato delle divisioni. Su questo tornerò però alla fine. Procedo quindi con il sintetizzare l'attività di parte in causa. Diciamo subito che una parte dello sforzo, soprattutto nei primi mesi di vita, ma non solo, è stato rivolto verso l'esterno e in particolare verso altre associazioni animaliste e antispeciste, associazioni italiane e poi naturalmente per ovvie ragioni di vicinanza fisica, soprattutto romane. Questo innanzitutto per ovviamente fare rete, creare collaborazioni, costruire alleanze in vista di battaglie attuali e future, che si preannunciano tutte molto impegnative, ma anche per sottolineare il fatto che noi nascevamo non con una logica competitiva o contrappositiva, ma al contrario con uno scopo proprio collaborativo e inclusivo. Nel pieno rispetto del metodo radicale che è quello della libertà di associazione, della doppia tessera e quant'altro. Abbiamo quindi partecipato a una serie di eventi congiunti e abbiamo anche collaborato con altre associazioni nella loro organizzazione. Alcune di queste associazioni con cui abbiamo collaborato sono Terra Noma da Roma, Per Animalia Veritas, di cui abbiamo qui la presidente, coordinamento antispecista, radicali ecologisti, di cui abbiamo qui segretario e tesoriere e forse qualche altra associazione che ho scordato di includere. Come eventi a cui abbiamo partecipato o che abbiamo organizzato insieme, cito ad esempio l'iniziativa congiunta di presidio informativo ai circhi con animali, che è stata organizzata e si è svolta il 6 gennaio in corrispondenza di diversi circhi con animali attendati nella capitale, la fiaccolata contro Arlan e contro la vivisezione che si è tenuta il 19 gennaio al Pantheon, l'organizzazione congiuntamente ad altre associazioni di un flash mob in occasione della settimana mondiale per l'abolizione della carne, un flash mob contro l'industria della moda organizzato sotto Natale insieme a Per Animalia Veritas, un flash mob sempre assieme a Per Animalia Veritas e altre di queste associazioni che ho citato, sul massacro degli agnelli, organizzato la parte in causa che si è tenuto a Roma in possibilità della Pasqua, la partecipazione alle due manifestazioni nazionali contro i circhi e contro la vivisezione organizzata dal coordinamento antispecista, la partecipazione alla manifestazione contro i mattatoi a Firenze, l'organizzazione di un altro presidio informativo di una settimana presso il circo Ronirolle e per quanto riguarda atti più recenti di collaborazione c'è stato un deposito congiunto da parte di parte in causa e per Animalia Veritas di un esposto denuncia a carico di gnoti a seguito di un episodio in cui un cane è stato ucciso, strangolato da una corda che lo teneva legato in modo troppo stretto al collo durante un'operazione di polizia nel quartiere San Basilio di Roma, un fatto di cui hanno parlato diffusamente i giornali locali. Abbiamo depositato un esposto e ci riserviamo come associazioni di costituirci parte civile nel caso in cui poi venga avviato un procedimento. Per quanto riguarda altre iniziative più propriamente politiche, devo citare il sostegno all'iniziativa non violenta di Davide Battistini, in particolare uno sciopero della fame. Davide Battistini è un attivista romagnolo che ha intrapreso in uno sciopero della fame per chiedere alla regione Amiglia Romagna il divieto di detenzione dei cani alla catena. Un'iniziativa personale di Battistini in cui si è aggiunto nel tempo poi il sostegno di diverse associazioni locali, animaliste, antispeciste, locali e nazionali, congiuntamente anche al sostegno di molti attivisti singoli e a cui parte in causa ha aderito sia lanciando uno sciopero della fame a staffetta tra i suoi sostenitori e iscritti, sul sito di parte in causa potete trovare l'elenco delle adesioni, sia scrivendo direttamente al presidente della regione Amiglia Romagna Vasco Errani per sottolineare innanzitutto che il divieto esplicito di catena come strumento di contenzione permanente in realtà non si configurava altro che come il rispetto, il chiedere il rispetto nello spirito e nella lettera di una legge regionale già in vigore nella regione Amiglia Romagna, la legge del 17 febbraio 2005, che già prevedeva l'obbligo e relative sanzioni in caso di violazione per i padroni di cani, i detentori di cani di assicurare un adeguato livello di benessere fisico ed etologico nonché quello di garantire un'adeguata possibilità di esercizio fisico. Ecco, quindi la nostra lettera mirava a sottolineare che la lotta non violenta di Battistini e di chi si era unito era finalizzata a niente più che la richiesta del rispetto della legalità e nella fase di legge finalizzata ad esplicitare con un disegno di legge apposito ciò che era già implicito della legge regionale sopraccitata. E in questa lettera chiedevamo anche che la regione si aprisse a un confronto fra le parti. Si può dire che abbiamo vinto questa battaglia assieme ovviamente a Davide Battistini, a tutte le associazioni locali e nazionali, a tutti i singoli attivisti che si sono uniti in questa lotta, l'abbiamo vinta perché poi a marzo il Consiglio dell'Unione dell'Emilia Romagna ha approvato all'unanimità una legge di modifica della legge precedente del 2005 sul benessere animale in cui si stancisce in maniera esplicita il divieto di detenzione dei cani alla catena. Si normano anche altri dettagli relativi alle loro conduzioni di detenzione. L'Emilia Romagna con questa legge si configura come la prima ragione in Italia ad avere adottato il divieto di detenzione dei cani alla catena. Battistini ha interrotto lo sciopolo della fame dopo 43 giorni e questa battaglia non violenta si è conclusa, si può dire, con un successo. Ora, naturalmente un conto è riuscire a far approvare una legge che è comunque un risultato molto importante e tutt'altra questione per la relativa ai controlli, che ovviamente ai controlli affinché questa legge venga effettivamente applicata e non venga illusa in modo soffrettizio e di questo naturalmente si dovrà occupare l'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda sempre le iniziative politiche, l'iniziativa più impegnativa di questo primo anno di vita, lanciata quest'anno ma non conclusa, anzi si può dire appena iniziata, è stata la campagna nulla da obiettare, per il rispetto e la piena applicazione della legge 413 del 1993 sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Con particolare riferimento al rispetto dell'obbligo, saggito da un articolo della legge stessa, da parte delle facoltà universitarie di assicurare massima pubblicità al diritto di obiezione. Quindi un obbligo che è prescritto dalla legge stessa e che un'indagine di qualche anno fa, anzi l'aggiornamento dell'indagine è del 2012, quindi molto recente, aveva rilevato essere disatteso dalla stragrande maggioranza delle facoltà universitarie italiane. In particolare la fondazione Hans Ruisch aveva portato avanti un monitoraggio sistematico dei siti internet di diverse facoltà universitarie interessate dalla legge e aveva rilevato come il 68% di queste facoltà sostanzialmente violasse l'obbligo di massima pubblicità. Quindi in sintesi il 68% dei siti internet delle facoltà esaminate non includeva alcun riferimento alla legge 413 sul diritto di obiezione e in alcuni casi minoritari includeva un riferimento impreciso e scorretto perché per esempio in alcuni casi si parlava di diritto dello studente di essere esonerato da corsi in cui si faceva uso di animali, ma questo è sbagliato perché la legge dice qualcosa di molto diverso, la legge non dice che lo studente ha diritto all'esonero, bensì dice che nel caso in cui uno o più studenti si dichiarino obiettori relativamente ad un corso in cui si faccia uso di animali, la facoltà è tenuta a istituire un corso alternativo con lo stesso contenuto formativo in cui si faccia uso di metodi sostitutivi. Quindi la legge è molto importante a nostro modo di vedere perché non solo in quanto sancisce ovviamente un diritto inviolabile dell'individuo, inalienabile, a sottrarsi da attività che comportano la violenza verso animali, ma è importante anche dal punto di vista pragmatico per favorire la diffusione di metodi sostitutivi. Tra l'altro c'è anche un altro aspetto da sottolineare, è vero che in molti casi le facoltà universitarie anche in Italia hanno abbandonato l'uso di animali nei corsi di laurea, cioè quando l'uso dell'animale è a scopo puramente didattico dimostrativo. Ci sono ancora università che ovviamente ne fanno uso anche a questo livello, ma l'uso di animali è ancora naturalmente molto diffuso a livello di attività di ricerca e l'attività di ricerca comprende anche per esempio il lavoro di tesi di laurea e di tesi di dottorato. Quindi il diritto di obiettare riguarda gli studenti a tutti i livelli compreso il dottorato. Quindi lo studente che per esempio di dottorato che volesse fare una tesi sperimentale su un determinato argomento, ma volesse esercitare obiezioni di coscienza, per esempio scegliendo di limitarsi alla fase in vitro, non volendo effettuare i test su animali, ha il diritto appunto di esercitare obiezioni di coscienza e la cosa importante è che non può essere penalizzato per questo, magari con un voto inferiore. Quindi a nostro avviso è importante che questo diritto insomma venga conosciuto. Abbiamo quindi inteso partire dai risultati di quest'indagine della Fondazione Hans-Rouge per proseguire la loro campagna, inizialmente concentrandoci sulle facoltà romane di agraria, scienze, medicina, veterinaria, no veterinaria che lavorano con queste facoltà, per esempio accogliendo studenti che appunto magari fanno degli stage per lavorare alla tesi. Quindi abbiamo esaminato sia i siti internet di queste facoltà e di questi istituti, sia nel caso delle facoltà abbiamo proceduto ad una ricognizione fisica delle baccheche, delle segreterie didattiche, per vedere appunto se esponevano riferimenti alla legge e abbiamo inviato una serie di diffide agli istituti che si presentavano come inadempienti chiedendo l'adeguamento alla normativa entro un limite di 30 giorni. Alcuni istituti hanno risposto positivamente alla nostra diffida adeguandosi alla normativa o diciamo promettendo che l'avrebbero fatto in tempi ragionevoli. Segnalo tra questi il preside della facoltà di scienze e della sapienza di Roma che ci ha risposto appunto dichiarando che si sarebbe adeguato, che la facoltà si sarebbe adeguata e cito anche l'istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR dove tra l'altro si eseguono esperimenti di tipo comportamentale sui primati che a seguito della nostra diffida ha pubblicato un riferimento completo alla normativa della legge 413 sul sito internet. Per quegli istituti che non si sono adeguati a seguito della nostra lettera abbiamo depositato una serie di esposti e denunce presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma ravvisando gli estremi per il reato di violazione dati d'ufficio per i responsabili di queste strutture. Stiamo attualmente seguendo l'iter degli esposti ed essendoci dichiarati persona offesa come associazione ci potremo opporre a un'eventuale richiesta di archiviazione. Nel frattempo abbiamo avviato la stessa attività di monitoraggio dei siti internet di alcune facoltà e istituti del Comune e della provincia di Milano, abbiamo spedito una seconda tranche di lettere di diffida, i termini non sono ancora scaduti, i 30 giorni non sono ancora scaduti e prevediamo di seguire il medesimo inter affinché appunto la 413 trovi sperabilmente una piena applicazione. La campagna poi prevede di estendersi a tutto il territorio nazionale secondo appunto queste modalità, prevediamo anche di organizzare attività di informazione e di volantinaggio presso le facoltà, quindi oltre all'attività di monitoraggio e di segnalazione delle arricchienze c'è anche l'attività parimente importante di informazione degli studenti sull'esistenza di questo loro diritto. Naturalmente le energie che riusciremo a convogliare per raggiungere se non il totale diciamo una buona percentuale delle facoltà interessate dipenderà ovviamente da quanto riusciremo a essere capillari sul territorio al di fuori del Comune di Roma e dipenderà anche da quante energie ci verranno sottratte dalla necessità di seguire l'iter giudiziario già in corso per gli esposti che sono già stati depositati. Abbiamo scelto di dedicarci a questa campagna per varie ragioni che sono tutte direi abbastanza facilmente intuibili, si tratta innanzitutto di una battaglia per il ripristino di una situazione di illegalità, cioè per l'applicazione di una legge che già esiste ma che è semplicemente disattesa, situazione che è vera appunto a coperti moltissime altre leggi in materia di sfruttamento animale. A questo proposito vi dobbiamo infatti che sia fondamentale accanto alle battaglie imprescindibili e fondamentali per cercare di cambiare le leggi e anche battersi affinché le leggi che già esistono e che in attualità le sono molto avanzate e vengano effettivamente applicate. La seconda ragione per cui abbiamo scelto questa battaglia è perché una battaglia sull'obiezione di coscienza è una battaglia a tutto tondo radicale e non credo che ci sia bisogno di spiegare perché, ed è una battaglia che oltre a contribuire nel suo piccolo a favorire l'emergenza di una diversa coscienza nei confronti degli animali non umani, da parte di chi poi si trova ad avere a che fare con loro nell'esercizio nel corso dei propri studi o della propria professione, è una battaglia che dicevo ha anche lo scopo pragmatico di contribuire a diffusione dei metodi alternativi. Proseguendo questa sintesi, cerco di essere breve, un'altra iniziativa politica che abbiamo intrapreso è stata la campagna Una firma per gli animali con cui abbiamo chiesto a tutti i candidati, per lo meno a quelli che siamo riusciti a raggiungere, delle elezioni politiche e regionali, regionali del Lazio, che si sono svolte in contemporanea per il Lazio e poi alle elezioni comunali di Roma, abbiamo chiesto a tutti i candidati di firmare un impegno a sostenere in caso di elezione una serie di misure legislative a tutela degli animali non umani. In particolare per le recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Roma, l'impegno riguardava per esempio misure come vigilanza per rassicurare il rispetto della legge sull'obiezione di coscienza nelle facoltà e istituti del territorio del Comune, obbligo per istituti e ditte che operano nel territorio comunale di comunicare i dettagli degli esperimenti che si intendono effettuare e altre informazioni eventualmente ritenute utili a pubblicazioni di statistiche relative agli stessi sul sito del Comune di Roma, nel rispetto della normativa sulla privacy, incentivi adeguati grazie a borse di studio e protocolli di intesa con le università, allo svolgimento di tesi e attività di ricerca finalizzate, allo sviluppo di metodologie alternative, promozione di recupero e riabilitazione degli animali da laboratorio, tutela, anzi tutela, integrazione dell'ordinanza Veltroni sui circhi con atti, con richieste, con modifiche atti a disincentivare le domande di attendamento per i circhi con animali, vietare la circolazione delle botticelle, promuovere il risalamento dei canili comunali, promuovere la prevenzione del vantagismo. Tra i firmatari del nostro appello, del nostro impegno per le comunali, rientra, risulta un nostro iscritto, Nicola Smingrino, che si è candidato nella lista dei Verdi, e risulta anche il nostro compagno radicale Riccardo Maggi, che è stato eletto ed è attualmente Presidente della Commissione Legalità e Diritti del Consiglio Comunale di Roma e con il quale quindi prevediamo di collaborare nel prossimo futuro affinché l'impegno che lui ha firmato in qualche modo venga, perlomeno parzialmente poi rispettato e quindi portato avanti. Tra le iniziative poi più propriamente di tipo culturale, segnalo alcuni incontri che abbiamo organizzato, quasi tutti a Roma devo dire, uno a Milano e uno a Verona. Al primo incontro, quello di Milano, che si è tenuto presso la sede proprio di Radicali Milano, sono intervenuti come relatori Leonardo Caffo e Anna Maria Manzoni. Il tema dell'incontro era l'antispecismo tra filosofia e psicologia e si è trattato appunto di un'introduzione, una discussione sul tema complesso dell'antispecismo dal punto di vista della filosofia morale e dal punto di vista della psicologia cognitiva e sociale. L'incontro è andato molto bene, c'è stata una buona accluenza di pubblico, è stata ovviamente anche l'occasione per noi di farci conoscere come associazione presso i Radicali di Milano, abbiamo anche raccolto un buon numero di iscrizioni e devo dire è stata anche l'occasione piacevole per un incontro finalmente di persona per alcuni di noi che avevano partecipato fin dall'inizio al progetto di fondazione di Parta in Causa, quindi è stata anche un'occasione piacevole perché finalmente ci siamo conosciuti e visti di persone. Un altro incontro romano è andato molto bene, è stato l'incontro con il veterinario toscano Marco Verdone che ha presentato il suo libro Ogni specie di libertà, carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona, un libro che tratta dell'esperienza sua di Verdone all'interno del carcere di Gorgona all'interno del quale esiste un allevamento destinato principalmente ai bisogni alimentari dell'isola. Questo è un libro molto interessante che da un lato raccoglie le esperienze e le impressioni di Verdone e di altre persone che a vario titolo diciamo si sono trovate ad avere a che fare con la realtà del carcere dell'allevamento, ci sono anche contributi di ex detenuti che in particolare raccontano così del loro rapporto particolare instauratosi nel tempo con alcuni degli animali dell'allevamento ed è stata ovviamente anche un'occasione per riflettere sul tema molto complesso, interessante, facettato dei legami e delle differenze che ci sono tra detenzione umane e detenzione animale e anche questo è un tema che in qualche modo tocca anche temi di interesse radicale. Infatti il libro di Verdone sviluppa molte riflessioni proprio in questo senso. C'è stata poi, sempre per quanto riguarda le iniziative culturali, la presentazione di parte in causa a Verona in cui si è parlato di antispecismo e non violenza e anche se purtroppo l'incontro è andato bene ma purtroppo l'affluenza devo dire non è stata paragonabile a quella degli altri proverenti quindi evidentemente c'è da lavorare sul versante veronese del nord-est. per sensibilizzare sull'antispecismo. Due altri eventi importanti che abbiamo organizzato, uno organizzato in collaborazione tra Parte in Causa e Asimus Novus che è un blog di filosofia e antispecismo centrato sulla teoria e pratica dell'attivismo non violento e un altro incontro organizzato congiuntamente con l'Associazione Radicali Ecologisti per la possibilità di dialogare di collaborazione tra antispecisti ed ecologisti. Ecco vorrei dire due parole brevissime su questi due eventi. Nel primo evento è stata invitata come relatrice Claudia Sterzi che è una compagna radicale di lungo corso, molti di voi la conosceranno, paladina di moltissime battaglie radicali, di scioccoli della fame, di disobbedienze civili, attualmente segretaria dell'Associazione Radicali Antiproibizionisti, nonché iscritta di parte in Causa. Claudia ci ha trasferito un po' della sua lunga e interessante esperienza di attivista non violenta nell'ambito, come molti di voi sapranno, soprattutto della lotta per l'abolizione della pena di morte nel mondo, della lotta per la fine delle mutilazioni genitali femminili e delle battaglie relative al raccomodizionismo sulle droghe. È stato un incontro ricco di spunti e di riflessioni e di suggerimenti utili a nostro avviso per la crescita del movimento animalista antispecista. L'altro incontro molto importante è stato quello organizzato con Radicali Ecologisti, un'associazione che è nata poco dopo fatta in causa, con la quale abbiamo nel tempo sviluppato una collaborazione che speriamo di ampliare e di rafforzare in futuro. L'incontro ha trattato il tema del dialogo possibile tra ecologisti e antispecisti e fra i relatori abbiamo avuto Filippo Schillacci, che oggi è qui con noi, Marco Movizi e Fabrizio Cianci. Ecco, vorrei dire anche due parole brevi su questi due incontri che sono stati organizzati con un intento abbastanza preciso. Ovviamente si è trattato solo di dare inizio, una riflessione e non certo di esaurirla con gli incontri che si sono fuori. Per quanto riguarda il primo incontro, quello sull'attivismo non violento, abbiamo creduto e crediamo, e questo deve includere anche le organizzatrici di Asunus Novus, le colleghe di Asunus Novus, ormai ex colleghe purtroppo, che hanno organizzato con me l'evento. Dicevo abbiamo organizzato l'evento perché crediamo che il movimento antispecista possa beneficiare dall'acquisire una maggiore consapevolezza delle strategie da adottare, soprattutto per far sì che queste strategie siano in qualche modo più pensate, più meditate, più tarate su obiettivi di medio termine e un po' meno estemporane e meno legate all'emergenza del momento. Ora, è verissimo che le battaglie legate magari all'emergenza del momento o a obiettivi molto circoscritti sono importantissime, fondamentali, le abbiamo fatte anche noi e continueremo a farle e molto spesso queste battaglie a corto raggio sono importanti anche perché salvano delle vite, vite concrete di animali che magari appunto vengono strappati a condizioni atroci per essere restituiti a una nuova vita, quindi lungi da me il volere sminuire questo tipo di battaglie assolutamente. Però ecco da un lato crediamo anche che diciamo l'attivismo continuo dei presidi, dei banchetti informativi, delle manifestazioni che ripeto sono il sacrosanto, in qualche modo sottragga il tempo della riflessione, sottragga tempo alla riflessione un po' più a tavolino su come impostare strategie un po' più di medio termine. Ecco e quindi crediamo appunto, credevamo che questo incontro cominciasse ad andare un po' in quella direzione. Dall'altro lato crediamo che sia importante cercare di diffondere il metodo della non violenza, che da grandi in poi, venendo ai radicali in Italia ma non solo loro, ha permesso di ottenere importanti traguardi di civiltà e di libertà. Per quanto riguarda il secondo incontro, anch'esso ha avuto una motivazione precisa che va ricercata nel fatto che crediamo fortemente che l'antispecismo debba fare tutto il possibile per uscire dai suoi confini, per contaminare e per contaminarsi, naturalmente senza abdicare a nessuna delle sue priorità. E crediamo che questa contaminazione possa avvenire, non è scontato, ma crediamo che sia più facile che avvenga con quelle realtà che in qualche modo sono più vicine a una sensibilità antispecista, cioè appunto le realtà ecologiste. Infine per concludere la sintesi delle attività di tipo culturale, cito la rubrica fissa sull'antispecismo che va in onda bisettimanalmente su Libri TV, da me personalmente curata, che ha ospitato diverse interviste e dibattiti su temi collegati ai diritti animali, tra gli ospiti cito l'etologo Roberto Marchesini, filosofi Marco Maurizzi, Leonato Caffo, Davide Battistini, Domenica Bruni, Barbara Balsamo, Lorenzo Loprete, Marco Verdone, Marco Mamone Capria e altri. Sto per finire. Veniamo brevemente. ai problemi e alle criticità che abbiamo riscontrato. Allora, oltre al già citato problema del mancato riconoscimento che ci ha precluso un rapporto più stretto con il mondo radicale, con la galassia radicale, adesso vedremo di rispondere alle richieste che ci sono pervenute da radicali italiani per ottenere questo famoso riconoscimento e se non dovesse arrivare, pensiamo di rivolgerci al presidente di radicali italiani in quanto garante dello statuto, dicevo oltre a questa criticità che ho già sottolineato, un'altra criticità che è emersa nel corso di quest'anno ha a che fare banalmente con il fatto che le nostre forze sono esigue. Per esempio, 5 membri di giunta pur volenterosi e competenti sono pochi, il lavoro è tantissimo e quindi per il futuro bisognerà necessariamente pensare a qualche forma di maggiore coinvolgimento degli iscritti, chiunque sarà il nuovo segretario perché in pochi appunto non ce la si fa. Io mi auguro anche che dagli iscritti vengano proposte le iniziative e anche volontà di portarle avanti in maniera autonoma, seppur naturalmente coordinandole con i dirigenti. E veniamo quindi all'ultimo punto che riguarda le polemiche o di dibattito in corso in seno al movimento antispecista. Io sento il dovere di parlarne perché questo dibattito piuttosto acceso, che ha riguardato appunto un po' tutto il movimento antispecista animalista in Italia o gran parte di esso, dibattito che ha assunto a volte anche la forma apparente di contrasti che sembravano personali, ha finito per coinvolgere anche parte in causa e con alcuni dissensi interni che hanno portato alle dimissioni di un membro di giunta, Andrea Festa. Ora i motivi del suo allontanamento dall'associazione sono complessi da riassumere e diciamo che però si inseriscono, pur poi nella diversità delle intituzioni individuali, in questa frattura determinata dal dibattito, a cui accennavo, che si è incentrato sostanzialmente su alcuni temi che sono tra loro legati. sulla necessità o meno di cercare alleanze al di fuori del movimento di liberazione animale, quindi sull'opportunità o meno di legare alcune delle battaglie antispeciste ad altre battaglie di stampo, chiamiamolo umanista, che non hanno quindi direttamente a che fare con la questione animale ma possono avere molto a che fare indirettamente, e la centralità da assegnare al veganismo sia come prerequisito individuale per poter partecipare a vario titolo alle battaglie per la liberazione animale, sia in termini di strategia, cioè la centralità del proselitismo vegano nell'ambito di una lotta di liberazione animale, perlomeno per quanto riguarda gli animali da reddito che poi diciamo sono in termini quantitativi, costituiscono la raghissima parte dello sfruttamento animale. Ecco, io all'interno di questo dibattito ho preso posizione, non mi sono mantenuta neutrale, ho detto la mia in più occasioni, però mi preme sottolineare che a tutte le voci presenti in parte in causa è stata sempre data la massima possibilità di esprimersi, in particolare tutti i membri di giunta e anche un membro esterno di giunta erano in possesso delle credenziali di accesso al blog di parte in causa e potevano pubblicare assolutamente quello che volevano senza chiedere alcuna autorizzazione. Nessuno quasi ha scelto di usufruire di questa facoltà e mi rammarico della cosa e ne prendo atto. Dicevo, io ho preso posizione, a titolo ovviamente personale, sulle alleanze io ritengo utile e strategicamente essenziale che il movimento antispecista cerchi delle alleanze al di fuori dei suoi confini, preferibilmente in quelle realtà che hanno maggiore probabilità di risultare sensibili alle tematiche dell'asfruttamento animale. Ritengo la ricerca di alleanze cruciale anche in virtù del fatto che personalmente ritengo molto improbabile che si pervenga a una qualsiasi forma di fine della discriminazione assolutamente su base di specie senza che contestualmente si faccia qualcosa per porre fine alla discriminazione e allo sfruttamento intraspecifici. Questo senza naturalmente applicare alla priorità che per noi riveste la questione animale e degli animali non umani, non ci mancherebbe. Io credo che una battaglia solo per gli animali che lasci tutto il resto immutato è al mio modo di vedere una battaglia destinata probabilmente a fallire, senza contare il fatto che, sarà banale dirlo ma è vero, l'umano è un animale e se la parola antispecismo ha un senso, allo stesso dettaglio che la liberazione animale non può tradirsi in una battaglia contro l'umano. L'ultimo tema di senso ha a che fare con il veganismo e a questo proposito da parte di più persone si è sollevato come un problema il fatto che alcuni iscritti di parte in causa e non siano vegani. Tra l'altro la nostra iscritta ha lasciato l'associazione proprio con questa motivazione, cioè per il fatto che vi fossero all'interno dell'associazione degli univori. Io su questo ho espresso il mio pensiero e lo rivalisco, pur ovviamente rispettando assolutamente la decisione di questa iscritta, ci mancherebbe altro. Vorrei appunto dire il mio pensiero. Parte in causa nasce come associazione radicale e il suo statuto è modellato sullo statuto di tutte le associazioni radicali che non prevedono requisiti per l'iscrizione, cioè chiunque si può iscrivere a qualsiasi associazione radicale, oltre a non prevedere possibilità di espulsione dei suoi membri. Parte in causa quindi nasce in questo modo e per queste ragioni può essere diversa da altre associazioni animaliste e antispeciste. Personalmente io non critico affatto altre associazioni animaliste o antispeciste che prevedano appunto il veganismo per esempio come prerequisito per l'iscrizione, non ho mai criticato questa scelta. Io ho semplicemente sottolineato che appunto parte in causa è diversa in questo aspetto, perlomeno finché lo statuto non verrà cambiato secondo le regole previste dallo statuto stesso. Io credo personalmente che questa diversità sia un valore. Personalmente mi auguro che rimanga perché, mia opinione personale, innanzitutto il veganismo è scelta personale e individuale e deve essere una scelta secondo me libera e non condizionata, mentre l'antispecismo dovrebbe essere primariamente un movimento politico. In secondo luogo io mi auguro che questa diversità rimanga anche perché ritengo quello escludere a priori qualcuno dalla battaglia, qualcuno che magari ha voglia di contribuire, escluderlo solo perché o magari non ha maturato una piena sensibilità antispecista, magari non si trova d'accordo su tutto, o magari la maturata ma diciamo è per qualche motivo incoerente con le sue stesse idee, come lo siamo tutti in altri ambiti della vita, ecco trovo che escludere a priori questi motivi sia poco laico, poco libertario e poco radicale, oltre ad essere a mio parere controproducente al fine di quegli obiettivi di contaminazione di cui parlavo prima. Sul veganismo sono stata anche accusata, forse per questo motivo, per queste mie posizioni su parte in causa, di volere diminuire la scelta vegana e di volere depotenziare il veganismo come strategia per porre fine allo sfruttamento animale, per lo meno in campo alimentare. Ecco, io a questo proposito sento di dire qualcosa, insomma io non mi sogno di svilire minimamente la scelta vegana, è una scelta che ho fatto mia, è una scelta per me nobile, sentimentale laddove io uso sentimentale in un'accezione assolutamente positiva e per me è una scelta libera e individuale di testimonianza politica, testimonianza del fatto che pur con le inevitabili contraddizioni che tutti noi ci portiamo dietro, tutti noi vegani e non, è possibile immaginare un mondo che non si basi sullo sfruttamento di altri esseri senzienti. Io personalmente preferisco parlare di testimonianza piuttosto che di esempio, semplicemente perché non mi sento di pormi come esempio per nessuno. Quindi ho il massimo rispetto per la scelta vegana e proprio perché nutro il massimo rispetto per la scelta vegana come scelta libera e consapevole mi sembra di svilirla nel momento in cui cerco di imporla con la forza sottile dei ricatti morali, con diciamo minacce di esclusione da un presunto circolo di eletti o addirittura in forza di pretese di superiorità morale. E veniamo all'ultimo punto, giuro, il proselitismo vegano. Io non credo che il veganismo sia la strada maestra per porre fine allo sfruttamento animale. Io credo che sia una delle strade, una delle strade e credo che non vada assolutamente abbandonata. Credo però anche che il movimento debba cominciare seriamente a lavorare anche su altri fronti, senza abbandonare il veganismo e credo in sintesi che sia arrivato il momento per il movimento antispecista di passare, per usare un titolo di un intervento recente a una conferenza sui diritti animali, di passare dall'essere una crociata morale a un vero e proprio movimento politico. E a questo proposito vorrei chiarificare, quando io parlo di movimento politico intendo che è necessario che si passi da una dimensione puramente personale o a una somma di scelte personali a una dimensione pubblica e collettiva. E la dimensione pubblica e collettiva, cioè quella politica, è naturalmente più complessa da gestire, più difficile da immaginare e da portare avanti, ma io credo che sia anche l'unica in grado di decidere realmente sullo stato di cose esistente. Ecco, tra l'altro secondo me non è nemmeno un caso, potrei sbagliarmi, ma non è un caso se in un altro ambito che quello della sperimentazione animale, sono proprio i nostri avversari politici che cercano spesso e volentieri di ridimensionare la portata sociale delle critiche morali alla sperimentazione animale, riducendola a un semplice fatto di scelte personali. Molto spesso ci sentiamo dire, beh, se proprio siete contrari, non utilizzate farmaci testati su animali e quindi, diciamo, vi sentite a posto con la coscienza e ci lasciate fare il nostro lavoro. Secondo me non è un caso appunto che i nostri avversari politici sul fronte di vissezione cerchino appunto di ridurre il tutto alla questione di scelte personali. Secondo me proprio l'appiattire tutto e sempre su una questione di scelte personali o di stili di vita che depotenzia la carica progressista e oserei dire rivoluzionaria, in senso ovviamente non violento del termine, del provvimento antispecista. Come ultima precisazione, poi chiudo, vorrei dire un'ultima cosa. Quando io uso l'aggettivo politico lo uso nel senso che ho cercato di spiegare prima. Se qualcuno ha interpretato tutto erroneamente l'aggettivo politico come sinonimo di aderente a una qualche ideologia politica, che sia il marxismo, l'ararchismo, il liberalismo o quant'altro, mi dispiace ma ho preso una sonora cantonata, nel senso che per me politico ha l'accezione che ho cercato di spiegare. E aggiungo che politico significa anche, se no soprattutto, azione collettiva, strategica e organizzata affinché il cambiamento avvenga a livello legislativo, economico e culturale. Ho finito. Grazie.